Ragazzi buongiorno a tutti e bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi 21 febbraio 2022, Bitcoin 37.600 dollari in questo momento. Ragazzi guardiamo insieme la situazione, abbiamo avuto un weekend prevalentemente rosso, Bitcoin in questo momento sta testando importanti livelli di supporto che i bulls devono necessariamente mantenere. Quindi ragazzi guardiamo la situazione, paragoniamo quello che accade oggi con anche quanto già accaduto, al contrario durante la primavera 2021, guardiamo la situazione delle medie mobili sul settimanale perché c'è una media mobile molto importante, esponenziale, proprio poco sotto di noi e poi ragazzi parliamo delle altcoin che mostrano qualche segno di vita proprio nelle ultime ore. Quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi e come sempre grazie per il vostro supporto. Ragazzi prima di guardare il grafico stasera alle 18 ci sarà una live sensazionale, saremo in diretta con Stefano Serafini il campione mondiale di trading del 2017, quindi una live assolutamente da non perdere questo pomeriggio. Ragazzi guardiamo insieme il grafico, cerchiamo di capire Bitcoin come si sta comportando, voglio intanto mostrarvi che a seguito di questo minimo e di questo massimo, che è per la prima volta un massimo più alto rispetto al precedente, quindi durante tutto questo downtrend per la prima volta con questi 44.000 Bitcoin riesce a mettere a segno un massimo più alto di quello fatto il 13 di gennaio. Il livello molto importante che adesso Bitcoin sta testando, che potrebbe supportare Bitcoin o eventualmente potrebbe logicamente violarlo, è il livello dello 0.61 se consideriamo questo minimo con il massimo intorno ai 45.800. Se facciamo una misurazione vediamo che siamo molto vicini in questo momento proprio al livello dello 0.61 che si trova in prossimità dei 37.800 dollari. Quindi sarà importante vedere, qua siamo su giornaliero, dove chiude la candela giornaliera se eventualmente sopra il livello dello 0.61 o eventualmente torneremo addirittura a testare il supporto dello 0.78 che si trova a 35.600 dollari. Comunque in momenti molto difficili questi per Bitcoin c'è sicuramente tanta negatività sul mercato, ma se Bitcoin dovesse rimbalzare o mantenere il supporto di questo livello sarebbe effettivamente una nuova potenziale struttura, un inizio di una struttura nuova rialzista con minimo e higher low, quindi un minimo più alto del precedente e un primo higher high rispetto a questo qua. Vediamo un po' se Bitcoin riuscirà a fermarsi in zona 37.500, 38.000 dollari, tra l'altro c'è un importante livello di supporto in particolare che è contrassegnato dal minimo che abbiamo fatto nel mese di agosto, quindi mi aspetto che questo livello perlomeno sia un'importante zona di supporto, 37.300 dollari, il minimo che Bitcoin ha fatto ad agosto. Vediamo se riusciremo a mantenere questo livello come supporto. Voglio farvi anche vedere una correlazione interessante che c'è tra quanto sta accadendo oggi e quanto accaduto in questa situazione durante il 2021. Quindi qui avevamo esattamente l'opposto, Bitcoin faceva massimi uno più alto dell'altro, minimi uno più alto dell'altro, fin tanto che abbiamo fatto il primo minimo più basso rispetto al precedente, qui che è più basso di questo, un rimbalzo e poi una prosecuzione della discesa. Un rimbalzo che è arrivato in questa circostanza fino al livello dello 0.61, quindi vedete qui, se andiamo a zoomare, anche in questa circostanza Bitcoin quando ha rimbalzato dal massimo al minimo non siamo riusciti a stare sopra lo 0.61, vedete qui, e poi abbiamo continuato la corsa al ribasso. Non è ragazzi molto diverso per adesso da quando si sta verificando sulla chart di Bitcoin, quindi anche in questa circostanza dopo che Bitcoin ha fatto un massimo più alto di questo sta ritracciando proprio in prossimità del livello dello 0.61, quindi sta giocando un po' col supporto dello 0.61, quindi bene o male una situazione esattamente analoga all'opposto rispetto a quella che abbiamo visto in questa circostanza. Vediamo un po' se Bitcoin perderà questo supporto e eventualmente tornerà addirittura allo 0.78 che qua abbiamo visto essere in zona 35.007. Ragazzi poi guardiamo il settimanale, ci sono due medie mobili che voglio portare alla vostra attenzione, abbiamo quella azzura che è la media mobile esponenziale delle 50 settimane, quella gialla è la media mobile semplice delle 200 settimane. Allora ragazzi se guardiamo quanto è accaduto in passato, premesso che Bitcoin, scusate questa è quella delle 100 settimane esponenziali non 50 e Bitcoin in questo momento è già sotto le 20 settimane e le 50 settimane. Se guardiamo quanto è accaduto in passato vediamo che una volta perlomeno storicamente se Bitcoin ha perso il supporto delle 100 esponenziali, quindi sia qui che qui, stiamo tornati in zona delle 200 settimane. Quindi così è stato durante il bear market 18 e il dump, corona dump del 2020 e se andiamo ancora indietro stesso scenario qui, perdiamo le 100 settimane esponenziali e andiamo a finire alle 200 settimane semplici. Quindi in questo momento ragazzi le 100 settimane hanno supportato il prezzo di Bitcoin la scorsa settimana e quindi durante questo rimbalzo abbiamo chiuso sopra la media mobile delle 100 settimane esponenziali e vediamo se manterremo questo supporto. Ecco, un deciso campanello d'allarme sarebbe iniziare a chiudere una settimana al di sotto dei 36.000, quindi più o meno in prossimità delle 100 settimane esponenziali. Quindi perderemo sia le 20 settimane che le 50 ed eventualmente anche le 100 con le 200 settimane che in questo momento sono in zona 20.200 dollari, quindi in prossimità più o meno del precedente old time high, quello del 20-17. In ultimo ragazzi parliamo della Bitcoin Domino perché le altcoin questa mattina stanno performando meglio di Bitcoin, perlomeno quando c'è stato un piccolo rialzo, le altcoin hanno recuperato bene terreno e il trend della dominance ragazzi è sempre ribassista, per cui se questo è un ulteriore massimo abbiamo la creazione di un altro massimo più basso dei precedenti e potenzialmente un livello di supporto in zona 40-39%. Quindi logicamente ragazzi dipende molto la cosa accadrà a Bitcoin, se dovessimo vedere Bitcoin rimbalzare in questa zona potrebbe essere che assisteremo a una migliore performance delle altcoin contro Bitcoin e magari un ritest di questo livello del 39% ed eventualmente una rottura. Se invece Bitcoin continuasse eventualmente ad ampare perdendo il livello dei 37.000 può essere che assisteremo di nuovo a una salita della dominance, quindi fin tanto che non perdiamo questo massimo, quindi il 47%, il trend può continuare a considerarsi ribassista per le altcoin, quindi favorevole alle alt contro Bitcoin. Nonostante nelle ultime settimane comunque la dominance abbia parecchio recuperato il terreno perché Bitcoin dai 39% è ritornato in zona 43%, quindi le altcoin hanno molto sofferto durante l'ultima discesa di Bitcoin. Bitcoin ragazzi per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo l'appuntamento di oggi alle 18 con il campione mondiale di trading del 2017, grazie come al solito per la vostra attenzione, ci sono dei referral link in descrizione nel caso voleste utilizzarli, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao!